Siamo con Martin Lunen. Ciao Martin. Ciao, come sei? Sono bene, grazie. I tuoi tifosi erano molto spaventati di perderti quest'anno e invece eccoci qua, sei contento. I tuoi tifosi erano scoperto di perderti quest'anno, ma qui sei, quindi sei felice? Sì, ovviamente sono felice. Questo è stato il mio casa per i ultimi 4 anni, quindi questo è il mio 5th anno qui in Cantù. Sto guardando molto avanti al prossimo season e spero che possiamo fare una buona. Sì, lui è veramente contento di essere qui perché Cantù è stata la sua casa per 4 anni e è sicuro che quest'anno faranno un ottimo lavoro di squadra e appunto sono pronti per la nuova stagione. Sei uno dei giocatori più anziani e con più esperienza, quindi dovrei dare consiglio ai giocatori più giovani. Sì, lui dice che passerà tutta la sua conoscenza ai giocatori più giovani. per portarli a vittorie e successi. Tra i giovani c'è Abbas, neocampione d'Europa, te lo aspettavi. Tra i giovani c'è Abbas, campione europea. Hai aspettato questo? Sì, ho sempre avuto che Abbas era un ottimo giocatore. Ho seguito tutto l'anno scorso e ero molto accettato per lui e per la nuova stagione dell'Italia. Sì, lui ha convinto che Abbas sia un grande giocatore per l'Italia, capolato l'Italia alla vittoria e è molto contento che sarà in squadra. L'anno scorso la Supercoppa e quest'anno, l'anno scorso la Supercoppa e quest'anno, l'anno scorso la Supercoppa e l'anno scorso l'anno scorso? L'anno scorso? Siamo guardando l'anno scorso. Siamo preparati per l'anno scorso. Sì, l'anno scorso la Supercoppa e l'anno scorso. Siamo preparati per l'anno scorso. Sì, l'anno scorso l'anno scorso. Sì, loro si alleneranno duramente e vedranno e sperano che ci sia una stagione di successo per il Cantù. Un'ultima domanda, la ultima domanda. Ci sono molti bambini che cercano uno sport da fare. Perché consiglieresti il basket? Ci sono molti bambini e bambini che cercano un sport. Perché consiglieresti il basket? Penso che il basket è un ottimo sport. Io lo spiego tutta la mia vita. Credo che ti insegna grandi cose nella vita per essere successi. Come il lavoro difficile e la determinazione. Quindi penso che il basket è un ottimo sport. Sì, lui dice che il basket è lo sport più bello che lo pratica da quando era bambino. E appunto insegna moltissime cose. La determinazione ad essere uomini di successo. E quindi lo consiglia a tutti i bambini. Grazie mille. Thank you very much. Grazie, ciao. Grazie mille. Ciao.